Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto custodia subacquee per fotocamere Nikon AW120 arancione. Con la garanzia del produttore di due anni. La Colpix AW120 di Nikon è impermeabile fino a 18 metri e resiste alle cadute fino a 2 metri di altezza. Questa compatta outdoor è perfetta per le vacanze e per le attività sportive. Dotata del Wi-Fi e di un chip GPS, questa fotocamera dispone di un sensore BSI CMOS da 16 megapixel per realizzare delle immagini nitide e ricche di contrasti, di un obiettivo luminoso da f2.8 e di una copertura grandangolare da 24 mm. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie a tutti.